Ciao, oggi vedremo come fare un detergente, in particolare uno shampoo. Per preparare un detergente abbiamo bisogno dei tensioattivi. I tensioattivi sono molecole che sono affini da una parte all'acqua e dall'altra al grasso, quindi sono in grado di lavare lo sporco dalla nostra pelle e dai nostri capelli. Si classificano i naufoteri anionici, cationici e non-ionici in base alla loro carica elettrica e per inserirli in una formula, per uno shampoo, un bagno schiuma, un dolce a schiuma, in genere si mette come primo tensioattivo un tensioattivo anionico, noi useremo il sarcosinate, che ha un buon potere lavante, che però è un po' aggressivo. Poi useremo una betaina, che è un tensioattivo anfotero, per contrastare l'aggressività del nostro tensioattivo primario e poi utilizzeremo un glucoside per radulcire la formula. Per stabilire le quantità del singolo tensioattivo dobbiamo tenere conto della sal, cioè della sostanza attiva lavante di ogni tensioattivo e anche della sostanza attiva lavante che viene richiesta per uno shampoo, un bagno schiuma, un detergente intimo. Ad esempio, per lo shampoo bisogna tenere una sal del 10-15%. Per quanto riguarda il bagno schiuma, se rimane sul 20-25%, il detergente intimo deve lavare un po' meno, quindi il 10%. Ora bisogna prendere in considerazione le sal dei singoli tensioattivi. Ad esempio, il sarcosinate, si chiama sodium lauric sarcosinate, che come abbiamo visto è anionico, ha una sal di 29%, mentre il nostro glucoside, che io ho scaldato un po' a bagnomaria, perché altrimenti è proprio solido a temperatura ambiente, ha una sal di 51% ed è un tensioattivo non ionico, mentre la betaina, questa molto liquida, ha una sal di 36%. Per calcolare quanto tensioattivo mettere di ognuno di questi, dobbiamo applicare una formula. Cioè, ad esempio, poniamo di voler mettere il 17% di sarcosinate. Facciamo 17 per 29, cioè la sua sal, sostanza attiva lavante, diviso 100 e otteniamo 4,93. Facciamo la stessa cosa per il nostro glucoside. Ne vogliamo mettere il 12%, facciamo 12 per 51 diviso 100, otteniamo 6,15. Continuiamo con la betaina, ne vogliamo mettere l'8%, facciamo 8 per 36, 36 è la sua sal, diviso 100 e otteniamo 2,88. Sommiamo i tre risultati, cioè 4,3 più 6,12 più 8, otteniamo 13,93. Noi abbiamo visto che la sal dello shampoo deve stare tra il 10 e il 15, quindi il nostro detergente è perfetto così. Il 13,93 è la sal del nostro detergente. Quindi ora pesiamo i nostri tensioattivi. Mettiamo il 17% di sarcosinate, nel mio caso sono 34 grammi, perché ne farò 200 millilitri. Aggiungiamo il nostro glucoside, il 12%, io ne metterò 24 grammi, e poi termineremo con la betaina. Ogni volta che si aggiunge un tensioattivo, poi bisogna mescolare per bene i due tensioattivi insieme, due, poi tre nel nostro caso. Vedete che è bello liquido, bisogna sciogliere un pochino a bagnomaria, altrimenti è impossibile tirarlo fuori dal flacone. Allora, arrivo a 24, poi io aggiungerò la betaina, qualcuno, questa è la nostra fase B del detergente, poi vedremo la fase A e la fase C. Qualcuno preferisce inserire la betaina nella fase C, dopo aver messo il conservante, perché smonta meno la preparazione e si ottiene uno shampoo, comunque un detergente più denso. Io l'ho sempre messa all'interno dei tensioattivi e mi trovo comoda così, comunque potete anche inserirla alla fine della preparazione. Ora, io mescolerò per bene e poi aggiungerò la betaina, l'8%, quindi 16 grammi nel mio caso. E a quel punto abbiamo la nostra base lavante. Ora abbiamo messo da parte i nostri tensioattivi e prendiamo la fase A, che sarà composta da acqua, fitocheratina e provitamina B5, cioè pantenolo. Sono due sostanze funzionali, idrosolubili, che servono a districare e idratare i capelli. Aggiungiamo la fitocheratina in acqua, vedete che è una polverina. Cerchiamo di farla scendere tutta. Io ne ho messi il 3%, quindi nel mio caso 6 grammi. E poi aggiungerò il pantenolo, ne aggiungerò il 4%, cioè il 2%, scusate, 4 grammi. L'acqua invece ha il 57%, sono 114 grammi. Prima di aggiungere il pantenolo, che io ho già prelevato con questa pipetta, mescolerò tutta l'acqua finché la fitocheratina non si sarà sciolta. Ora che la fitocheratina si è sciolta, aggiungiamo il nostro pantenolo o provitamina B5. Abbiamo visto il 2%, quindi io ne metterò 4 grammi, per 200 grammi. Mescolo un pochino nuovamente. E poi aggiungo la mia fase A, quindi la fase acquosa, ai tensioattivi che ho messo da parte. Aggiungo molto lentamente e mescolo per bene finché non ho finito tutta la fase acquosa. Dunque, ho mescolato per bene, vedete che lo shampoo è ancora molto liquido. Adesso passiamo alla fase C. Inserisco prima di tutto il conservante. È lo 0,6%, io uso il Cosgard che si dosa così, quindi ne metterò 32-35 gocce. Ora che abbiamo finito con il conservante, diamo una mescolatina e aggiungiamo o gli oli essenziali, oppure una fragranza. Io per questa volta utilizzerò la fragranza naturale di cocco, ne metterò poche gocce. E poi la fragranza, l'essenza di vaniglia. Anche in questo caso poche gocce, perché se poi la profumazione è troppo intensa potrebbe dar fastidio. Se usate gli oli essenziali, mettetene 5-6 gocce, altrimenti poi non vi si addensa più lo shampoo. A questo punto dovrei misurare il pH, ma non spreco nemmeno la cartina tornasole, perché so già che il nostro shampoo sarà troppo basico. Quindi metto prima qualche goccia di acido lattico e poi effetto la misurazione. Ne metto 3. Poi mescolo, effetto la misurazione. Mi accorgerò comunque quando lo shampoo addenserà, perché il salcosinate addensa a 5.5, quindi inizierò a vedere delle striature. Ora non le vedo ancora, quindi metto ancora un paio di gocce. Tenete conto che questi sono 200 ml, quindi le dosi sono un po' più alte rispetto alla base di 100 che di solito si fa. Faccio la misurazione e poi vado avanti, oppure mi fermo, a seconda della misurazione che ottengo. Devo fermarmi a 5.5. Allora, ci sono valute circa 20 gocce, abbiamo raggiunto il nostro pH di 5.5. Ora abbiamo finito, non ci resta che travasare il nostro shampoo in un barattolo, anche riciclato da un altro shampoo, lavato bene. Non so se riuscite a capire la densità, comunque è abbastanza liquido come tutti gli shampoo Eco Bio, però non liquidissimo. Ecco fatto, abbiamo finito. Io e il mio buonissimo shampoo Eco Bio, cocco e vaniglia, perfetto per l'estate, vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Lui sarà finito, ma io sarò ancora qua. Ciao! Ciao!